C'è un obiettivo condiviso, quello di tutelare la salute e la città di Battipaglia, sottoscritta un'intesa questa mattina a Palazzo Sant'Agostino tra il presidente della provincia Michele Estrianese e la sindaca di Battipaglia Cecilia Francese. Mentre continuava il presidio all'ex stir di Battipaglia, stamani è stato sottoscritto un atto di indirizzo tra il comune di Battipaglia, la provincia di Salerno e l'ente d'ambito di Salerno per una moratoria di vieto di nuovi insediamenti per la gestione di qualsiasi tipo di rifiuti sul territorio. Un primo passo tiepido ha dichiarato sin da subito il primo cittadino di Battipaglia per far riconoscere sul piano provinciale e regionale che la città della Piana del Sele ha vocazione agricola e quindi non potrà, secondo la normativa vigente in materia, essere più oggetto di nuovi insediamenti o ampliamenti di quelli esistenti. Successivamente questo atto, nella giornata di lunedì 16 settembre, verrà presentato alla conferenza dei capigruppo del Consiglio Provinciale che provvederanno ad inserire la ratifica del provvedimento nell'ordine del giorno di un Consiglio straordinario. C'è già una riunione, abbiamo pure convocato per le 11.30 la Regione Campania per discutere nuovamente di questa problematica rispetto alla quale abbiamo già assunto impegni la Regione di Campania, ieri a Battipaglia, stamattina qui come provincio, come ente d'ambito e comune di Battipaglia. Abbiamo un obiettivo condiviso, quello di tutelare definitivamente e formalmente con atti concreti la città di Battipaglia perché va assolutamente fermato l'insediamento di questi impianti o l'ampliamento di impianti esistenti che purtroppo comportano problematiche rilevanti per la città, per l'area in esame e quindi la provincia nell'ambito delle proprie competenze farà di tutto in sinergia con l'amministrazione, con la Regione Campania e l'ente d'ambito per andare avanti velocemente in questa direzione. Abbiamo proprio adesso condiviso un documento che sarà poi illustrato dal sindaco al gruppo che sono lì davanti allo Stil, poi verrà comunicato in seguito ma c'è assoluta disponibilità, sensibilità e attivismo politico-amministrativo in merito a questa questione. A dire il vero mi permetto di dire che anche prima di questo ulteriore incidente che c'è stato ci eravamo già incontrati con il sindaco il quale ci aveva pressato su questa questione e noi ci eravamo già attivati, vuol dire che acceleriamo i procedimenti e siamo tutti qui a disposizione. Un accordo importante, abbiamo fatto un po' tardi per un fatto di imprevisto però abbiamo lavorato al fine con l'impegno che hanno preso di mettere in atto l'adozione di questa delibera, la leggo integralmente, così anche i cittadini a Battipaglia si tranquillizzano, l'adozione della proposta di delibera, di moratoria, di vieta, di autorizzazione e o ampliamente di nuovi impianti di trattamento, rifiuti per saturazione del territorio di Battipaglia come già avevamo anche deliberato. Noi avevamo chiesto come amministrazione come ricordava prima il Presidente. Quindi voglio dire l'impegno è raggiunto, il 16 alla convocazione del Consiglio Provinciale. Ora andremo a Battipaglia a portare questo documento sottoscritto sia dal Dottore Di Nesta che dal Presidente Strianese e volevo tranquillizzare le persone, soprattutto ora tanta calma perché le porte dello Stir come da impegno, noi abbiamo mantenuto il nostro impegno, chiedo ai cittadini di fare in modo che si sappia che anche la città di Battipaglia mantiene l'impegno e facciamo in modo che i camion carichi di rifiuti, soprattutto ci sono degli ospedali che hanno tanti rifiuti da sversare e c'è anche l'attesa per l'uscita di quelli nuovi, ci hanno anche rassicurato che lo Stir sarà svuotato quanto prima possibile, prima del previsto. Quindi cittadini calma, il risultato è raggiunto, mai più rifiuti, ulteriori rifiuti, industrie di rifiuto sul nostro territorio e o ampliamente. Era questo che è il primo passo che volevamo, ora rispettiamo anche noi il patto. Vado a Battipaglia, parliamo con i cittadini.